E alla fine è arrivato il tanto atteso taglio dei tassi di interesse da parte della Fed ed è assolutamente un taglio consistente di mezzo punto percentuale ed era anche leggermente non atteso. Infatti ha provocato uno shock dei mercati finanziari e la Fed ha voluto intervenire in maniera consistente. Adesso vediamo anche perché, quali sono i motivi che hanno spinto la Federal Reserve a fare un taglio più consistente di quello che era il previsto perché era previsto un taglio di un quarto di punto percentuale invece il taglio è stato di 0,50. Bitcoin reagisce in maniera consistente andando a breccare il canale discendente, il triangolo discendente facendo il classico break ma attenzione c'è una sfida da superare che non è assolutamente superata in questo momento e quindi non si può cantare vittoria. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo ad affrontare un po' l'analisi di quello che è successo nella scorsa giornata con il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Che cosa è successo, cosa ha detto Powell e poi alla fine, che è la cosa più importante, vi ho preparato tra le altre cose una serie di slide dove andiamo a parlare proprio del discorso di Powell e per spiegare un po' quello che è stato il centro del suo discorso che ovviamente ha un pay-off, cioè ha in pratica un argomento che essenzialmente è il più importante di tutti e che reitera in tutto il discorso che ovviamente è quello della occupazione. Poi previsioni dei tassi per le prossime riunioni della Federal Reserve, come ha reggito il mercato a iniziare da Nasdaq 100 per poi passare a Bitcoin e poi su Bitcoin la sfida attuale, quella da superare per cambiare le sorti dopo questi sei mesi di nulla laterale ribassista che però proprio nei giorni scorsi hanno avuto un cambio per la prima volta in sei mesi, è successa una cosa per la prima volta in sei mesi, diversa da un punto di vista tecnico-statistico. Allora andiamo subito a vedere la questione legata alla Federal Reserve, Powell sottolinea un equilibrio per il futuro dell'economia. Allora cosa dice Powell? Il presidente della Federal Reserve ha delineato la visione della Banca Centrale di Sviluppi Economici e ha evidenziato che la Fed resta impegnata a raggiungere l'equilibrio, quindi classiche frasone ragazzi ovviamente di politica insomma eccetera, per creare fiducia sul mercato. Allora per quanto riguarda invece poi la questione del mercato del lavoro è stato il centro, il pulcro di tutto il discorso di Powell e ha detto che ha un ottimismo riguardo la forza del mercato del lavoro, sottolineando anche come un'adeguata ricalibrazione della politica monetaria possa sostenere l'occupazione anche con l'abbassamento del tasso di interesse. In sostanza adeguando la politica monetaria l'occupazione resterà stabile, ricordiamo che alcuni tentennamenti erano proprio arrivati dalla tasso di disoccupazione nei mesi scorsi e avete visto come è importante ve lo ribadisco da veramente un sacco di tempo all'inizio perché questa è la macroeconomia ragazzi, funziona in questo modo nei mercati americani, la Banca Centrale Americana è fixed, è focused sul mercato del lavoro, ragiona così al contrario di quella europea che ragiona invece sulla inflazione. Allora nel momento in cui il mercato del lavoro ha dato i primi tentennamenti bam, ribasso, anche perché secondo Powell ci sono anche dei dati importanti che riguardano la inflazione in particolare i salari sono cresciuti molto di meno e quindi l'inflazione secondo lui può essere messa sotto controllo anche per via degli affitti eccetera. Dopodiché ha parlato anche della flessibilità dicendo che la Fed prenderà decisioni di riunione, in riunione non ha un percorso determinato e poi ha ragionato ovviamente come dicevo appunto l'inflazione del settore abitativo parlando del fatto che i recenti cali degli affitti si rifletteranno poi sul calo dell'inflazione nei prossimi mesi e anche un raffreddamento legato al salari che sono controllati adesso quindi si è fermata la corsa al rialzo dei salari che è il fenomeno principale ragazzi che poi porta all'inflazione e poi infine questo argomento che è passato un po' no? Sotto tono però in realtà è una cosa importantissima il quantitative tightening continuerà senza alcuna interruzione. Che cos'è ragazzi? Allora la Fed sta da un po' di tempo togliendo soldi dal mercato non soltanto con i tassi di interesse alti ma anche andando a vendere i titoli di Stato e i treasury americani bond e non oppure portando a scadenza quelli che ha nel balance sheet senza rinnovarli quindi senza ricomprarli in sostanza sta togliendo denaro dal mercato istituzionale quello dei titoli di Stato e lo fa semplicemente andando a vendere alcuni bond magari quelli a scensa lunga oppure non ricomprando quelli che sono scaduti e vi faccio vedere anche il grafico del balance sheet perché in questo modo potete avere una idea in generale di quello che è la situazione attuale. Guardate qui dal marzo del 2022 circa a marzo aprile è iniziato il quantitative tightening da parte del Federal Reserve con il balance sheet che è ovviamente tutto programmato e sta scendendo riportandosi su dei valori accettabili. Vi ricordo che pre questione pandemica eravamo in zona total asset intorno 4 3 1 1 million of dollar e milioni di milioni ragazzi e poi guardate il balzo incredibile che è stato effettuato praticamente è stato raddoppiato il balance sheet quasi della Fed. Adesso stanno riportandolo in livelli accettabili. Questo quantitative tightening continuerà. Quindi alla fine ragazzi in sostanza Powell ha detto una cosa. La liquidità all'interno dei mercati relativa agli asset istituzionali continuerà a diminuire e quindi questa cosa riporterà la situazione economica in equilibrio. Probabilmente cercheranno di riavvicinarsi a questa zona tra i in questa zona tra 4 e 6 milioni di milioni chiamiamoli così e si avvicineranno probabilmente in questa zona qui. Se non è che da un punto di vista invece di tasso di interesse ha un po' ridotto il tasso di interesse andando ad aiutare quella che è l'emissione di liquidità invece più retail, quella più normale che influenza un po' il fattore dell'occupazione direttamente e questo è stato quello che effettivamente è andato a realizzare. Quindi in sostanza se andiamo a vedere anche le previsioni per i prossimi giorni 7 novembre tra due mesi la prossima meeting della Fed è previsto ulteriormente un taglio dei tassi di un quarto di punto addirittura c'è chi dice un mezzo punto ulteriore. Quindi tassi in continua discesa molto di più di quello che si pensava. Ora è cambiato qualcosa sicuramente quindi le pressioni inflazionistiche secondo Powell si stanno riducendo probabilmente hanno dato in mano che la questione legata ai salari sia ridotta quindi questo è evidente. Ne avevo anche accennato nel video che ho fatto mercoledì quando vi ho detto che effettivamente una riduzione del mezzo punto sarebbe stata accettabile solo nel momento in cui la Fed avesse avuto dei dati che non erano ancora usciti e probabilmente è così, cioè dati in mano relativi al calo degli affitti e al calo dei salari cioè più che calo diciamo al fatto che i salari si siano fermati la corsa all'aumento dei salari e questo induce a pensare che probabilmente nei prossimi mesi il tasso di inflazione si scenderà ampiamente sotto il 3% perché questo ragazzi ricordatevi che il tasso di inflazione è una percentuale legata al calcolo dell'anno precedente quindi non è che torniamo indietro e l'inflazione ritorna al pre pandemia assolutamente non è quello semplicemente non cresce ma siccome negli anni scorsi è cresciuta tanto allora basta anche semplicemente che rimanga stabile e noi avremo un tasso di inflazione al di sotto del 3% per il prossimo anno è un giochino matematico alla fine però bisogna comprendere un po' quello che fa e poi dicembre ancora una volta è previsto un'ulteriore riduzione quindi in sostanza abbiamo un altro mezzo punto percentuale almeno che verrà ridotto entro la fine dell'anno secondo queste che sono le previsioni ma la Fed ha anche detto che agirà ovviamente di conseguenza ci saranno impennate ulteriori dell'inflazione probabilmente si fermerà con questi tagli altrimenti continuerà su questa strada che a questo punto in effetti ha cambiato un po' percorso ed in effetti così è stata anche la reazione dei mercati attenzione però perché i mercati finanziari standard escludiamo le criptovalute quindi parliamo di Nasdaq potrebbero non essere così facilitati da una politica monetaria così un po' più tranquilla bisognerà attendere ragazzi questa cosa qui perché è un po' sempre un'arma a doppio taglio cioè nel momento in cui noi andiamo ad avere una diciamo una politica monetaria estremamente più flessibile rischiamo anche di dare spazio a reintroduzione diciamo avvento dell'inflazione chiamiamolo così e questo sarebbe pericolosissimo in questo momento perché i tasti comunque sono molto alti è ovvio che sia così anche se noi li abbiamo se la fede li ha abbassati una cioè se l'inflazione si riaccende in sostanza diventa difficile poi andarla a controllare quindi bisogna andare con i piedi di piombo i mercati questo lo sanno e anche qui prima di cantare vittoria ce ne vuole un po' in ogni caso l'indice tecnologico si è portato a fare un doppio massimo in questo ciclo mensile numero 2 di questo trimestrale che teoricamente dovrebbe concludere un ciclo annuale a meno che qui non sia stato troncato qualcosa ora morale della favola è molto semplice se qui dobbiamo andare a fare la chiusura dell'annuale di Nasdaq sopra questi livelli probabilmente se ci va ci va di pochissimo quindi non ha spazio e ritornerà a scendere a momenti altrimenti qui è stato troncato un ciclo superiore e qui non ci sono grandi danni insomma anche per Nasdaq al momento resterà probabilmente in questa fase di limbo attenzione alla prossima settimana perché un'impennata potrebbe in effetti indurre anche Bitcoin a cambiare direzionalità e a rompere uno dei livelli più importanti che è appunto la sfida di oggi vi faccio vedere anche questo grafico ne parliamo la prossima settimana ho il grafico del forza relativa di Bitcoin contro Nasdaq che attenzione prevede in una situazione del genere che Bitcoin dia una sversata enorme cioè un'accelerazione rispetto a Nasdaq importante e deve arrivare nuovamente sopra questo livello questo prevede che la prossima settimana o la successiva Bitcoin possa fare effettivamente molto molto bene sarà così andiamo a vedere qual è la sfida del momento per il re delle criptovalute allora breakout del canale discendente e del triangolo in questo momento che siamo andati a creare di cui vi avevo parlato nei giorni scorsi benissimo direi anche perché siamo nel nuovo ciclo mensile dal 6 di settembre e non è ancora stato chiuso neanche il bisettivanale quindi il ciclo a metà probabilmente sarà un ternario perché sta facendo queste strutture con il massimo al centro quindi probabilmente sarà un ternario un 10-10-10 circa insomma ecco giusto per capire e al di sopra di questi livelli ci sono delle resistenze imponenti soprattutto questa questa è una resistenza che ha un aspetto fondamentale sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista ciclico importantissima perché intanto se superata i 65.000 ai 2 65.500 indica l'inizio di un nuovo annuale o da questo minimo o da questo minimo in chiusura dipende come applicata l'analisi ciclica ma soprattutto indica un higher high che per la prima volta avviene da un sacco di tempo e in particolar modo volevo farvi anche vedere che a livello di low sul minimo del 6 di settembre per la prima volta bitcoin dopo sei mesi ha segnato un minimo superiore e questa è stata la prima volta dopodiché sta tentando in questo momento di rompere questo massimo se ci riesce da un punto di vista statistico inverte il trend di breve periodo rientrerebbe in un trend laterale rialzista non più laterale ribassista sempre laterale si parla però è meglio di quello ribassista e sarebbe la prima volta guardate da quanto tempo qui abbiamo fatto lower low costanti 1, 2, 3, 4, 5 e questo è stato il primo che ha invertito questo trend ancora una volta questa logica da un punto di vista di analisi dei dati statistici dei prezzi porta l'idea che qui sia avvenuto un cambio ciclico e quindi ci sia un flesso probabilmente all'inizio del nuovo annuale che stiamo attendendo ma solo ed esclusivamente il superamento di questa fascia di prezzo darà spazio questa è la nuova sfida di bitcoin che è tutt'altro che semplice come vedete in questo momento sta tentando ma sbatte sul livello di resistenza anche perché oggi è una giornata molto delicata per i mercati è venerdì poi ci sarà il weekend e il lunedì che di solito portano bene a bitcoin e quindi potrebbe avere magari maggiore spazio la tenuta di questo livello di prezzo intorno ai 62,5 è fondamentale soprattutto non deve andare down rispetto ai 62 mila dollari che a quel punto configurerebbero un segnale di inversione di brevissimo che potrebbe essere pericoloso attenzione però perché non inficerebbe in ogni caso il rialzo basta poi il recupero nei prossimi giorni allora la sfida è il superamento di questa zona soltanto un cambio di trend molto rilevante deve prima scendere poi fare un altro rialzo poi nuovamente scendere sotto i minimi precedenti allora cambierebbero le sorti di questo trend ma al momento non abbiamo minimi il primo è qui sotto quindi al di là dell'arrivo sotto i 57 mila dollari circa non cambierebbe nulla a livello di trend di breve periodo perché questo rialzo è stato molto lineare e interessante non è in maniera molto ampia non è stato rialzo ampio però è stato interessante tra le altre cose vi faccio vedere questo dato che è importantissimo è il mese migliore di settembre dalla storia di bitcoin al momento mancano 10 giorni alla chiusura quindi non cattiamo vittoria ma teoricamente è il migliore vi faccio vedere anche la tabella in questione aggiornata più 6,56% nel mese di settembre se dovesse chiudere a questi prezzi ma mancano appunto 10 giorni sarebbe il miglior mese della storia della vita di bitcoin incredibile vabbè almeno dai dati che abbiamo in questa statistica ci può stare sì attenzione perché nulla vieta che si ritorni appunto a lateralizzare ora io non sono molto collegato diciamo a queste tabelle lo sapete ne parlo ogni mese la rivedremo anche nel mese di ottobre però in linea di massima un'indicazione ce l'aveva data cioè un o laterale ribassista o laterale rialzista il mercato sta scegliendo sempre sempre sembra diciamo un laterale rialzista però in realtà ancora mancano una decina di giorni quindi un terzo del mese non cantiamo vittoria da questo punto di vista allora occhi puntati su questa resistenza che la spida nei prossimi giorni e ci sono questi dati il trend lineare è molto ben impostato basta non fare passi falsi soprattutto nella giornata di oggi e aspettare il weekend lunedì che qui qualcosa si possa smuovere dopodiché c'è questo grafico importantissimo nasdaq bitcoin contro nasdaq che è arrivato a un punto di snodo importante è chiuso in questo triangolo lo salviamo così lo vediamo nei prossimi video e soprattutto sembra evidenziare che bitcoin ha bisogno di fare un balzo e il balzo deve essere notevole rispetto a nasdaq questo significa che dobbiamo avere un'accelerazione rialzista importante cosa che potrà avvenire al superamento di questo livello perché al superamento al tentato superamento di aria 65,5 circa bitcoin probabilmente accelererà subito verso i 68 mila dollari va bene ragazzi buon weekend intanto e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao 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 ciao